A questo punto passo alla palla Simon Mastrangelo di ErgoProject che ci illuminerà con la sfida interdisciplinare nell'esperienza dell'accessibilità. Beh, illuminerà mi sembra un'aspettativa forse troppo alta, però cercherò quantomeno di dire qualcosa di utile. Allora, i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato di progettazione, di implementazione, dunque di sviluppo, e poi però che cosa succede? Cioè la progettazione e l'implementazione noi la facciamo perché cosa? Perché qualcuno possa avere un'esperienza di qualche tipo con l'oggetto che abbiamo progettato e implementato auspicabilmente in maniera accessibile. E dunque, tutto sommato, l'elemento finale e più importante, no? La qualità dell'esperienza che hanno le persone con l'oggetto su cui tanto abbiamo investito in termini di progettazione e sviluppo. E' quello di cui vi parlerò oggi. Dunque, che cos'è l'esperienza legata all'accessibilità e perché in termini di competenze è una sfida interdisciplinare? Come l'affronterò? Ma in realtà affrontando due macro temi. Uno, che cos'è quella che è stata coniata come Accessibility Experience? E due, cosa possiamo e dobbiamo fare per lavorare su questi temi? Partiamo appunto dal primo elemento. Dunque, che cos'è l'esperienza dell'accessibilità? Prima di arrivare all'esperienza dell'accessibilità, però dobbiamo ripartire dall'accessibilità. E' una cosa che hanno citato anche in precedenza, dunque non mi metterò a dare una definizione di accessibilità, ma ricorderò una cosa che non è stata detta, e cioè che l'accessibilità in sé è collegata e inserita all'interno di un modello di qualità definita da una norma tecnica, che nello specifico è l'ISO 9241-210, che ha altre tre dimensioni di qualità. Vediamole un attimo. Quando parliamo di cosiddetta human-centered quality, dunque qualità orientata alle persone, abbiamo ovviamente la componente di accessibilità. Il fatto che quell'oggetto possa essere usato dal più ampio range di persone possibili, comprese le persone con disabilità. Ma poi abbiamo anche l'usabilità. Dunque, volendola riassumere in maniera molto semplice, è la facilità con cui riesco a capire a cosa serve una cosa, a usarla e a usarla per raggiungere dei miei obiettivi, in modo che questa cosa sia anche soddisfacente, in fondo utile. Poi c'è un'altra dimensione che è quella che va molto di moda oggi per riassumere un po' tutto il mondo che sta dietro l'esperienza, che è la cosiddetta esperienza d'uso o user experience, che è tutto quello che è insieme al momento in cui io uso una cosa, dunque l'usabilità che abbiamo detto prima, quanto è facile usare qualcosa, ma anche quello che viene prima di usare qualcosa. Quali sono i miei modelli mentali? Quali sono le mie aspettative? Come mi aspetto che quella cosa funzionerà? E poi tutto quello che viene dopo che è utilizzato. Dunque, tutto il mondo delle reazioni positive o negative rispetto all'interazione con un prodotto. Ultima dimensione di qualità, quella di cui ci dimentichiamo spesso, è quella della cosiddetta prevenzione dai danni da utilizzo. Siccome tutto si sta spostando sul digitale, anche i rischi si stanno spostando sul digitale, rischi nell'usare un sistema di procurarmi o procurarci dei danni nelle varie dimensioni del rischio. Insomma, questo è fuori dal tema di oggi. Dunque, vedete che c'è molto del modello di qualità orientato alle persone che è dedicato al concetto di usabilità e esperienza d'uso. E l'accessibilità come si inserisce? È una cosa diversa dall'usabilità e l'esperienza d'uso? È una cosa che si integra? Beh, a dare una definizione ci aiuta la nuova definizione che è stata inserita all'interno della ISO 30071, che è proprio la definizione di accessibility experience, che è anche quella che ho usato per il mio intervento, intervento, che ci dice che è l'esperienza che un individuo ha dell'accessibilità di un sistema. Ok. E dunque, che differenza c'è tra accessibilità e esperienza dell'accessibilità? E ce lo dice la definizione, perché ci dice che l'esperienza dell'accessibilità è composta da due livelli. Il primo è l'accessibilità tecnica, quella della normativa, che è quella probabilmente di cui più ci siamo preoccupati negli ultimi vent'anni, dalla legge stanca in poi. Ma poi è composta da un'altra dimensione fondamentale, quella che a me piace chiamare accessibilità in uso, la norma la chiama in maniera diversa, che è quella che vivono le persone. Quando noi lavoriamo sull'accessibilità, dobbiamo sviluppare delle competenze che ci permettono di lavorare tanto sull'accessibilità tecnica, quanto sull'accessibilità in uso. E qualcuno potrebbe dire, ma non basta lavorare sull'accessibilità tecnica? Sono cose diverse? In realtà sono cose che lavorano in sequenza, cioè prima dobbiamo assicurare l'accessibilità tecnica e poi ci dobbiamo occupare anche di verificare che quell'accessibilità tecnica, che è abilitante dell'esperienza, poi ci permetta di avere anche un'esperienza soddisfacente. E qui vi presento dei dati, secondo me interessanti da questo punto di vista, che abbiamo raccolto in partnership con tante organizzazioni, Ergo Project, ma insieme a IWA, gli Accessibility Days, INVAT, l'Università di Tuente, e se dimentico qualcuno mi scuseranno, Fondazione Pensiero Solido, ecco per dirne un altro, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una survey proprio per indagare qual era la qualità dell'esperienza delle persone col digitale. E che cosa abbiamo trovato? Qui vi faccio vedere solo il risultato che interessa a noi. Vi presento i risultati della valutazione di usabilità espressa da tre categorie di utenti. La categoria di utenti senza disabilità ad alta autonomia, la categoria di utenti con disabilità ad alta autonomia e la categoria di utenti con disabilità a bassa autonomia. Quello che è emerso, incredibilmente, è che la percezione di usabilità, dunque tutte persone che comunque riescono a usare i sistemi, dunque non stiamo parlando di problemi tecnici, o forse anche problemi tecnici, ma sicuramente non problemi tecnici bloccanti, che hanno espresso una valutazione rispetto a quanto l'utilizzo di quel sistema era semplice e soddisfacente. Quello che è emerso è che le persone senza disabilità si sono posizionate su una scala da 1 a 5 intorno al 4, le persone con disabilità ad alta autonomia intorno al 3,5 e le persone con disabilità a bassa autonomia intorno al 3. Dunque che cosa viene fuori? Che noi stiamo progettando e implementando di fatto un'esperienza discriminatoria. Cioè anche se realizziamo dei sistemi che magari sono tecnicamente accessibili, probabilmente quel sistema offre una qualità dell'esperienza superiore alle persone senza disabilità rispetto alle persone con disabilità. Allora, cosa possiamo fare per non discriminare by design o by experience, senza adesso volendo inventare dei neologismi a caso? Vediamolo. Ovviamente vi presento alcuni elementi utili a questa riflessione che stiamo facendo insieme. Tutti i professionisti della filiera dell'esperienza d'uso devono avere competenze sull'accessibilità e preferibilmente competenze non di base, ma anche abbastanza approfondite. Che cosa vuol dire che mi riferisco ai designer, ai ricercatori, ai copywriter, agli sviluppatori e così via. Allo stesso modo, gli esperti di accessibilità devono saper dialogare con queste figure e crearsi delle competenze per saper distinguere e gestire l'accessibilità tecnica da quella in uso. Perché questa cosa è importante? Perché, faccio un esempio, quando facciamo dei test di usabilità con persone con disabilità e troviamo tutta una serie di problemi legati all'interazione con il sistema, dobbiamo poter riconoscere quali di questi problemi sono problemi tecnici, dunque non conformità tecniche, quali questi sono dei problemi esperienziali. Dunque tecnicamente il sistema è corretto, ma è semplicemente difficile da utilizzare. Faccio un esempio, il testo alternativo c'è, ma non è chiaro, il nome accessibile c'è, ma semplicemente la modalità in cui sono organizzati i contenuti non mi facilita l'individuazione dei contenuti, e così via. Dunque, volendo riutilizzare un titolo che mi pare avesse usato Roberto, a un forum PA dell'anno scorso, o forse anche prima, non c'è accessibilità senza competenze, non c'è competenza senza accessibilità. Però, però, questa cosa non può spaventare. C'è un però, nel senso che, in fondo, dobbiamo fare un lavoro che già facciamo, più o meno, ma lo dobbiamo fare meglio. E in questo parto dalla prospettiva, dall'ambito disciplinare da cui vengo. Io sono un ergonomo, esperto in fattori umani, con un background molto forte su tutto il mondo della ricerca e valutazione con le persone, e dunque sono un senior UX strategist, che è l'etichetta per fare scena, no? Però, di fatto, lavoro proprio sull'esperienza. E dunque, per me è facile partire da qualcosa che è già noto nel mondo della progettazione, del cosiddetto della progettazione della UX barra anche UI. È il processo Human Centered Design, quello codificato dalla ISO 9241-210, ma che in realtà permea tantissime metodologie di progettazione e sviluppo. È uno schema che è fatto principalmente di quattro fasi, no? Una, dove comprendo il mio contesto d'uso, dunque, chi sono le persone per cui devo progettare, che caratteristiche e esigenze hanno, che problemi incontrano. Poi c'è una seconda fase dove vado a definire i requisiti utenti, un'altra fase dove vado a produrre le soluzioni progettuali, che possono essere tanto soluzioni progettuali solo disegnate o anche sviluppate, e poi dove vado a valutare, no? Se quella soluzione progettuale soddisfa i requisiti utenti che ho definito. E questa quarta fase, ovviamente, è l'inizio dell'iterazione. Ora, se noi prendiamo questo processo di progettazione orientata alle persone, che teoricamente già tante organizzazioni in Italia e nel mondo seguono, anche se magari con etichette diverse, che cosa dovremmo fare per essere sicuri che sia anche inclusivo? Beh, vediamolo, no? Dandogli delle etichette più magari riconosciute. Nella prima fase, che potremmo chiamare understand, normalmente, come dicevo prima, noi studiamo il contesto d'uso. Quello che mi devo preoccupare di fare, se penso veramente all'accessibilità, è che devo considerare il più ampio range di persone possibili, comprese le persone con disabilità, ma non solo gli anziani, le persone a bassa alfabetizzazione digitale, le persone a bassa scolarità, le persone non native della lingua italiana o di altre lingue in cui è realizzato il sistema. E da questo punto di vista io vi posso portare la mia esperienza. Mentre sempre di più a me chiedono di fare test d'usabilità con persone con disabilità, a me mai nessuno è venuto a chiedere, quando facciamo interviste con utenti, prima di definire i requisiti, di comprendere nel campione anche delle persone con disabilità, per capire quali sono le loro esigenze, prima di progettare, non se riescono a usare qualcosa dopo. Questo secondo me è paradigmatico, no? Cioè si pensa tanto a verificare l'accessibilità dopo, ma dobbiamo iniziare a coinvolgere le persone prima. Quando dico persone, dico persone intendendo largamente intese, anche con disabilità. Nella parte in cui vado a definire i requisiti utente qualitativi e quantitativi, ora qui non c'è tempo per soffermarci sulla definizione di requisito, questa cosa ci porterebbe molto lontano, però noi sappiamo che il requisito ci permette tendenzialmente di definire quello che devo andare a realizzare e con che livello di qualità. Dunque io mi aspetto che in termini di accessibilità, allo stesso modo io dovrò avere sia i requisiti tecnici, si citava prima le WCAG per intenderci, dunque lo standard di riferimento, che può essere la norma europea che referenzia le WCAG e così via. Ma anche i requisiti utente non tecnici, cioè quello che la persona vorrebbe poter fare con quel sistema. Questa cosa qui, per l'accessibilità, non viene mai fatta, se non per la parte tecnica. Parte di design. Nella parte di design che cosa faccio? Normalmente parto dai principi di progettazione e progetto le interazioni e le interfacce. Solo che i principi di progettazione normalmente sono tutti legati a un'interazione standard che immaginiamo, mentre ci dobbiamo ricordare che ci sono diverse modalità di interazione. Un conto è se io percepisco l'interfaccia guardandola o ascoltandola. Quando io progetto, devo progettare tenendo a mente le diverse modalità di interazione che avrò con il mio sistema. e Michela su questo ha fatto diversi esempi su che cosa vuol dire. Ultimo, ma non ultimo, la parte di valutazione. Anche in questo caso io dovrò verificare le soluzioni con le persone. Dunque, come all'inizio, nella fase di understand, dovrò coinvolgere il più ampio range di persone possibili all'interno delle verifiche che andrò a fare. Dunque, questo vuole essere solo un esempio per dirvi come possiamo andare a integrare all'interno di processi in cui già siamo delle piccole attenzioni per iniziare ad avere un approccio maggiormente inclusivo. È chiaro che non dobbiamo fare tutto insieme. Lo dobbiamo fare piano piano in maniera incrementale. Sicuramente la cosa da cui partirei è uno, competenze. Cioè iniziare ad avere delle competenze diffuse rispetto a tutte le figure della filiera che riguardano tanto quelle non specializzate in accessibilità quanto quelle specializzate in accessibilità perché sicuramente, storicamente, gli esperti di accessibilità hanno un background meno orientato alla valutazione della qualità dell'esperienza. E due, iniziare a integrare nei nostri processi veramente le persone sicuramente partendo dalla cosa forse che si sta facendo di più oggi che può essere comunque un punto di partenza e che quantomeno iniziare a coinvolgere le persone nelle attività di verifiche e dunque nei test d'usabilità con persone con disabilità o quelle che a me piace chiamare test d'usabilità per l'accessibilità o per l'esperienza dell'accessibilità che dicevamo all'inizio. Vi ringrazio, ovviamente poi ci risentiamo per le domande alla fine passo la palla nuovamente a Roberto. Grazie mille Simon, c'è già qualche domanda vedo per l'ambito tuo quindi poi vai e torna preparato come si dice in questi ambiti. Senza, ci provo, ci provo. Ok. Grazie mille Simon, c'è già qualche domanda